Nessun miglioramento per quanto riguarda la situazione rifiuti in zona porto. Tante le segnalazioni dei cittadini che vivono una situazione di disagio perenne. Camminando in zona porto si notano subito le esalazioni emanate dai depositi di rifiuti che creano non pochi fastidi all'olfatto e soprattutto alla salute di chi abita e frequenta quegli spazi. La cosa che più fa scalpore sono come al solito gli ingombranti. Vasi di porcellana, elettrodomestici rotti, televisori, pezzi di mobilio, tutti questi rifiuti rendono impossibile l'agibilità dei cassonetti per chi vorrebbe utilizzarli in modo corretto. Aggravante il fatto che sia lunedì mattina perché la domenica non vengono ritirati i rifiuti e quindi il sabato non bisognerebbe depositarli. Rimane l'inciviltà generale ma si resta in attesa di un servizio che possa risolvere questi disagi.